Si è concluso il secondo weekend consecutivo di gare per la scherma modica a Mazzara del Vallo, dove si sono svolte le fasi regionali di qualificazione per la Coppa Italia Nazionale, che si terrà ad Ancona dal 6 all'8 maggio e dove si assegneranno gli ultimi 16 posti per partecipare ai campionati italiani assoluti di giugno a Roma. Dopo le ottime prove degli Under 14, anche gli atleti più grandi guadagnano 5 qualificazioni per la fase nazionale. Andranno ad Ancona per il fioretto maschile Bruno Salerno, secondo nella gara mazzarese, Ettore Mallia, quinto classificato, e Simone Alecci, che è arrivato all'ottavo posto. Nel femminile, Carlotta Puccia, a ottenere il pass per la prova nazionale con il suo terzo posto. Nella spada si qualifica invece Angelo Migliore, anche lui terzo classificato. Buone prestazioni, anche se non sufficienti, per salire in pedana ad Ancona, anche per Vittoria Calabrese e Simona Di Raimondo, che conquistano il settimo e l'ottavo posto. Ottimo debutto anche per gli atleti paralimpici nella prova regionale di spada maschile, categoria C, con Leonardo Napolitano, schermidore da poco più di un anno, grazie al progetto avviato con la collaborazione con SOA. Secondo classificato, dietro il più esperto Radicello di Palermo, e Giuseppe Terranova, quinto classificato. Si guarda già le gare di Adria nel prossimo fine settimana, in cui saranno impegnate Carlotta Puccia e Simona Di Raimondo nella Coppa Italia Cadetti. L'obiettivo? Conseguire la qualificazione per i campionati italiani Under 17 e 10 Reale, che si terranno dal 15 al 17 maggio. Grazie a tutti.